Sarebbe irresponsabile togliere l'obbligo delle mascherine durante il periodo di carnevale San Valentino. Lo ha chiarito questa mattina il presidente della regione campagna Vincenzo De Luca a margine della sua presenza al sopralluogo per i lavori all'aeroporto di Salerno. De Luca ha fatto riferimento ad una possibile ordinanza che laddove il governo decida di andare avanti sulla scelta di consentire all'aperto di togliere il dispositivo di sicurezza, si parla dell'11 febbraio, consenta invece in campagna di prolungare l'obbligo per almeno altre due settimane. La sensazione è che a Roma pensano di cancellare il covid rompendo il termometro. Non è così, non è così. Bisogna essere estremamente prudenti. È chiaro che ci avviamo verso l'esaurimento della quinta fase di contagio. La situazione sta migliorando nettamente. Credo che sarebbe irresponsabile togliere l'obbligo di mascherina al momento in cui andiamo verso il carnevale, San Valentino, feste, festini. Io credo che sia ragionevole qui avere qualche settimana in più di obbligo della mascherina. Ma è del tutto evidente che stiamo uscendo ormai dall'epidemia. Abbiamo registrato nelle scorse settimane cose francamente demenziali, in modo particolare in relazione al mondo della scuola. Non ci voglio ritornare, ma le ordinanze nazionali hanno mandato al manicomio le famiglie e i docenti. Stendiamo un velo pietoso, perché è veramente qualcosa di indescrivibile quello che hanno fatto per la scuola. Guardiamo avanti. Cerchiamo di completare la campagna di vaccinazione per i bambini. Ieri eravamo a 181 mila bambini vaccinati nella fascia 5-11 anni, quindi la cosa va bene. Dobbiamo completare questa fascia di vaccinazione. Per il resto cominciamo a guardare davvero con fiducia e con serenità al futuro.